E' l'alba di un nuovo inizio al Cremona Circuit, siamo al secondo appuntamento per quanto riguarda i trofei molto estate con un carico di adrenalina, una voglia da parte dei piloti, chi di potersi confermare, chi di dover provare a ribaltare e a sovvertire quello che era successo a Varano. 3.700 metri di percorrenza per un circuito storico, rimodernato e soprattutto che dovrà provare a regalare tanto entusiasmo alla gente venuta in maniera importante su questo circuito. Benvenuti dai Trofemoto Estate, è tutto pronto per l'inizio della Race Attack 600, noi siamo qui pronti e carichi per raccontarvelo a tra poco. Stefano Capelli, bene nelle prove ma non benissimo, ti aspettavi forse di partire una o due file avanti? Guarda, speravo, però sono riuscito comunque a tornare verso il mio best, l'anno scorso è stato 39,9, quindi insomma, è andato in crescendo, sono fiducioso. L'obiettivo però non cambia, alla fine poi sono le gare quelle che ti dicono come è andato il weekend? Esattamente, l'obiettivo è sempre divertirsi e dare il meglio possibile. Da buono a Romagnolo voglio dare un abbraccio a tutte le persone che in questo momento sono in difficoltà, dopo quel macello che c'è stato già a Luvione sarà difficile, però siamo un po' protosto e riusciremo a rialzarci, mando un abbraccio a tutti quanti. Matteo Crestini, dopo la bella prova di Varano forse ti aspettavi di partire un filino più avanti, ma poi il risultato finale lo racconteranno le gare? Sì esatto, speravamo di fare un pochino meglio, abbiamo girato bene nelle prove libere del sabato mattina, qualifica un po' peggio, un po' di problemini, però dai siamo qua davanti, speriamo di attaccarci subito a quelli che vanno forti. William Benedett, sei lì pronto a dare la zampata? Sì, siamo carichi, sono pronto, spero di recuperare qualche posizione e divertirmi facendo qualche sorpasso. Il campionato è cominciato bene, ti sei dimostrato subito uno dei protagonisti e Cremona come la vedi? Cremona bene, potrei dire che è il mio circuito di casa, ma abbiamo qualche problema con la moto e quindi questo weekend stiamo soffrendo un po'. Mattia Vangili, grande prestazione in prova che ti rilancia come uno dei protagonisti per questa gara 1 della Race Attack. Diciamo che sono abbastanza soddisfatto per le qualifiche e adesso non abbiamo ancora fatto niente però perché sono le due entrambe le gare che fanno il risultato. Quindi ci proveremo e speriamo in bene, in entrambe le gare, speriamo di comunque fare una prestazione migliore sicuramente di Varano. C'è un avversario col quale vuoi fare una bella bagarre? Sinceramente per il momento sono tutti avversari per me. Cristian Pocobello, centro dello schieramento, ma tu sei un animale da gara? Dipende, dipende, proviamo a fare del nostro meglio dai. A Varano appunto hai fatto una bellissima rimonta e qui a Cremona come ti trovi? Mi trovo bene, la pista mi piace, però vabbè in gara le carte si rimescolano sempre, quindi adesso vediamo, sarebbe il top riuscire a fare già una bella partenza in modo da portarsi un pochino avanti. Alessandro Picollo dal centro dello schieramento, da te ci si aspetta una gran bella rimonta. Sì, speriamo di fare una bella partenza, cerchiamo di riprendere la confidenza dopo il crash, sarà fondamentale partire davanti. Di piloti che si sono accattastati, infilati, infilati, per quanto riguarda l'inizio, convignati in pole, Bettella al suo fianco, Campanini vicino. Tutto pronto per l'inizio della gara, vediamo una ripresa dall'alto. Via partiti, buona la partenza di Bettella, mi sembra anche un buono spunto da parte di Simone Campanini e Bettella che va davanti, Campanini dignati, ha avuto uno spunto cattivo e si trova in terza posizione, chiaramente. È una gara che va meglio dei sette giri, con Cristian Boccobello andiamo a dilugiare subito con le telecamere nelle retrovie che sta cercando una rimonta. Abbiamo sentito le parole di piloti prima della gara molto carichi, l'abbiamo sentito Bettella, Campanini dignati, Cristini, Benedett che si trova in quinta posizione. Sappiamo che non è il suo circuito, va molto meglio a Varano, Alessandro Picollo, una Nuenti per la Rissanta 600 che sta cercando di vincolarsi e di crearsi dei buoni presupposti per costruirsi una gara interessante. in quel del Cremona Circuit, 3.700 metri di percorrenza, mentre i primi tre sembra che abbiano un passo totalmente diverso rispetto agli altri Cristini, Benedett, Cappelli, questi gli altri tre che si stanno andando a giocare una posizione tra quelle che conta. In quelle centrali abbiamo visto tante gare, abbiamo visto una riproposizione questa di una gara che è importante ma dove si vede già un imprinting particolare. i primi tre vanno e gli altri inseguono, ma non è che inseguono, sono già parecchio distanti, accusano un secondo e mezzo. William Bennett ad esempio sta cercando di scrollarsi di dosso la presenza, incombrante, importante, interessante, afflittiva in questo momento che è Matteo Cristini. Vediamo se può sorpassarlo subito sul contro rettilino di modo che al secondo giro possa già figurare in quarta posizione e possa, chi lo sa, cercare di andare a riprendere gli altri. Sì, si è riuscito a prendere la posizione ma forse già attardato di parecchio, due secondi almeno. Campanini, Vignati, anzi Campanini, Bettella, Vignati. C'è stato il sorpasso da parte di Campanini su Bettella che si è preso di forza, di impito, di slancio la posizione. E adesso bisogna divertirsi, adesso bisogna davvero dare il mille per mille, il massimo per cercare di capire, per cercare di andare, per cercare di ottenere quello che è un sogno all'interno del torneo motestate che è quello di cercare di restare lì franco bollati e quei tre lo stanno effettivamente facendo in maniera importante anche perché c'è veramente da dare tantissimo. Cappelli che ha avuto un buon inizio, in questo momento si trova un po' più attardato rispetto agli altri due, al buon Bennett, al buon Cristini. Bennett che sembrava forse avere una forza, un peso, un qualcosa di più importante ma mi sembra in questo momento che stia un po' accusando il colpo e non riesca a rientrare in quella che deve essere la sua competizione. Davanti si stanno un po' dipanando le matasse Campanini, Bettella e Vignati che io penso stia facendo un po' il furbacchione perché si è messo lì e sta secondo me aspettando in maniera importante di andare a cogliere il segno. Non lo so, abbiamo quest'idea, sicuramente è un'idea interessante e cercheremo di capire quello che succede. Mangili in quadrato, mentre intanto passano per il terzo giro, terzo giro che in corso, ricordiamo una gara che va al meglio dei sette di giri, i piloti se ne stanno davvero suonando in maniera importante, stanno cercando di capire, di vedere, di aprirsi degli orizzonti. Bennett quarto non sembra riuscire a rientrare, non sembra riuscire ad avere quell'abbrivio, quello spunto per poter rientrare. Allora a questo punto tante volte è meglio accontentarsi magari. Poi c'è Cristini, ottimo quinto, partire da l'ottava posizione, Matteo Cristini si sta tenendo, quinto lo sta facendo in una maniera, una versatilità importante. Cappelli che anche lui sta cercando di rimanere l'incollato, Campanini sa che non è quella la gara che si aspetta dove nessuno l'attacca e effettivamente Vignati ha preso Bettella e adesso tra poco possiamo iniziare a vedere un triello, un triunvirato che possa regalare soddisfazione anche perché siamo praticamente a metà gara, a metà manche. Intanto qualche sorpasso alle spalle, vedo con Cristini che comanda, Cappelli che si è messo lì a martellare e dietro gli altri piloti che cercano di crearsi una bagarre con Mangili che spunta. Nona posizione per Mattia Mangili che partiva dalla sesta e non ha avuto un grande spunto. Qui davanti intanto percorrono, precorrono i tempi, arrivano alla curvetta prima del rettilineo sempre con le stesse posizioni, con i distacchi che sono pressoché inalterati. Campanini sta andando più forte, Bettella qui è riuscito a mettersi un po' più alle spalle Vignati ma io penso che adesso dal box, dall'atomico team iniziano a dire a Vignati se ne hai vai perché inizia a mancare poco. Le modalità di sorpasso che creano a circuito non mancano, però ne devi sorpassare due se vuoi vincere la gara e occhio perché Bettella è un contender importante e allora a questo punto Vignati già si vede, ha iniziato a mettersi in modalità squalo con Mangili che si trova impelagato in tentativi di sorpasso sta cercando di disegnare delle curve particolari per provare a rimettersi alle spalle i vari piloti senza riuscirci, ha avuto un problemino Bettella qui e Vignati quasi ne approfitta è come se proprio gli fosse saltato il davanti e abbia faticato a tenere, è stato bravissimo Alberto Bettella ha fatto un miracolo a restare in piedi, ha fatto qualche pizza la sua moto allora occhio perché Vignati si è fatto forte alle sue spalle e adesso probabilmente cercherà di mettere uno in mirino sul contro rettilineo prima del rettilineo finale le telecamere indugnero su Mangili che sta cercando di andare a riprendersi le varie posizioni dai vari Zagoner, dai vari Taciti e da tutti quanti gli altri piloti che lo stanno precedendo con davanti Cristini a fare da capo Ultras per quanto riguarda questo gruppetto Mangili sfrutta il potere della sua moto e soprattutto il rettilineo per andarsene occhio perché Vignati è attaccatissimo a Bettella e qui le posizioni sono uguali ma i ritardi sono cambiati anche perché Campanini ha preso un vicinino ma Vignati li ha presi due a Bettella e probabilmente adesso lo mette nel mirino perché ha bisogno di prendersi con la posizione gran gara di Cristini, buona la gara di Zagoner mi verrebbe da dire anonima, conoscendolo il pilota si arrabbierebbe molto e chi se ne frega, anonima perché da lui ci aspettiamo sempre tantissimo e non riesce a combattere per le prime tre posizioni ma a questo punto si accontenterà della quarta le telecaterie mi dicono proprio su William Benedett che ricordiamo l'anno scorso ebbe un brutto incidente a Magione che gli precluse la possibilità di vincere la classifica di categoria perché stava letteralmente volando e stava dominando la classifica e il campionato intanto Mangini si è preso una posizione e va in ottava per cercare di costruirsi una gara che possa essere diversa Benedett, Cristini, inquadrati e poi via via tutti gli altri piloti che stanno combattendo per quanto riguarda le posizioni con Copponi, Zagoner e Mangini e Mangini che sta provando a metterne il mirino Copponi e Zagoner che lottano per la sesta posizione Cappelli un po' più attardato che li guarda, li scruta e cerca di capire se ci sia la possibilità, la fattibilità la fattività per provare a rientrare nel gruppone è stato scavaccato in precedenza proprio da Mangini Mangini che ha messo nel mirino Copponi e Zagoner, vediamo se riesce a passarli con Cristini che se ne va si è creato un altro microgruppo 3-4-5, sono tra la sesta e la nona posizione stanno battagliando come stanno battagliando qua con Vignati che ha passato Bettella e lo ha fatto in maniera dirompente in maniera totalizzante e adesso assistiamo ad una gara che può essere clamorosa per gli ultimi due giri con Campanini che dovrà difendersi da Vignati che probabilmente proverà a rientrare e mi sembra Bettella che non ne abbia proprio più segno che forse si accontenta della terza telecamera che induce anche su Mirko Stocco che sta andando a completare ultimare il suo giro per arrivare al sesto Mangini si è sbarazzato di Zagoner e si lancia all'assalto all'assedio totale da parte di Copponi che bella gara hanno rotto gli indugi piloti e lo sanno anche perché manca ormai un giro e mezzo li ha rotti anche Vignati Cappelli che prova anche lui a rientrare per prendersi la posizione lui che si trova nonno Vignati mamma mia si affaccia da Campanini quasi come per dire ehi bello io sono qua fai molta attenzione perché non ho la minima intenzione di mollarti di lasciarti andare anche perché manca un giro e mezzo anche perché un giro e mezzo è un'eternità crema una circuit 3.700 metri di percorrenza forse a questo punto mi viene da pensare che sono 2.500 quelli che ne manchino e allora Campanini Vignati si apprestano ad affrontare quello che io ho ribattezzato il contro rettilineo prima del rettilineo con Mangini che ormai si è fatto minacciosissimo alle spalle del pilota che lo precede sta provando in tutte le maniere da serragliarlo per riprendersi la sesta posizione la sua sesta posizione Cristini è scappato ed è praticamente imprendibile per la quinta intanto Campanini va ad affrontare convignati alle spalle quella che è la curva che lui metterà per l'ultimo giro gli ultimi 3.700 metri di percorrenza ho sbagliato prima chiaramente in precedenza non potevano essere 2.500 ma potevano essere forse 5.000 i metri di percorrenza ma chi se ne frega non è importante la matematica ora potrà esserlo alla fine della competizione per fare un check su quanti punti sono andati a fare i piloti Cappelli intanto cerca disperatamente di andare ad attaccare i piloti che lo precedono tra cui Zagoner per prendersi una posizione che sarebbe importante soprattutto per la morale per il primorale e la fiducia del pilota quei due là davanti battagliano Vignati e passa Campanini Vignati e passa Campanini con una mossa strepitosa Vignati si va a prenderla prima ma non può essere finita qua non deve essere finita qua per Campanini vorrebbe che fosse così Mattia Vignati del team atomico che sta provando in tutte le maniere a distruggere la concorrenza Vignati ha passato Campanini con una mossa elegante briosa e importante ma adesso è attesa la risposta di Simone Campanini perché tra un po' ci affacciamo sul controlettilineo perché Campanini ha la moto e ha i mezzi per poter rispondere a Mattia Vignati è una gara veramente bellissima interessantissima stressantissima ci sono 40 piloti quando sto registrando la voce sto sudando mille camicie cappelli intanto prova in qualche maniera anche lui disperatamente a rientrare per la posizione ma andiamo su quei due davanti perché voglio vedere come sono messi dai Campanini su Vignati poco prima dell'immissione nelle ultime due curve devono spingere deve stringere Vignati Campanini difende la posizione Vignati provate ad andare interno vediamo chi passa vorrei sempre essere Vignati Campanini lo sfrutta Campanini al Salamano dovrebbe aver vinto Campanini è un finale thriller è un finale clamoroso Campanini su Vignati e poi Bettella e poi Benedetto e poi Cristini e poi tutti gli altri e mamma mia che fatica commentare questa gara ho perso la voce ma ci avete deliziato ragazzi avete fatto una gara meravigliosa Vignati in rimonta non ha praticamente quasi mai dato quella speranza al suo team per poter rientrare ma poi ha rotto gli indugi al sesto giro ha prima scavalcato Bettella distaccandolo e si è buttato all'inseguimento di Campanini lo ha sorpassato all'inizio dell'ultimo giro è stato risorpassato alla fine dell'ultimo giro e poi sono arrivati lì tutti e due come due pazzi come due furiosi ci hanno regalato una gara mirabolante super entrambi Simone Campanini e Mattia Vignati terzo Bettella poi Benedett e Cristini ragazzi ci vediamo a Maggiore è stato bellissimo a presto a presto